Ciao! In questa lezione ti mostrerò come ripetere delle azioni per quante volte vorrai, anche all'infinito. Il professor Mattoncini! Nella scorsa lezione abbiamo visto come far pattugliare al nostro robot la scrivania andando avanti e indietro. Per farglielo fare due volte abbiamo dovuto incollare la stessa sequenza di blocchi due volte. Se avessimo voluto farglielo fare cinque volte avremmo dovuto copiare e incollare la sequenza cinque volte. Se avessimo voluto farglielo fare dieci volte avremmo dovuto copiare la stessa sequenza di blocchi dieci volte. Se avessimo voluto farglielo fare dieci volte... Diventerebbe una cosa assai poco pratica. Dobbiamo trovare una soluzione alternativa anche perché, ricordate, i programmatori sono pigri. Quindi qualunque cosa gli faccia risparmiare tempo è benvenuta. C'è un aereo! Anche per questo video utilizzeremo la base motrice Spike Prime di cui trovate le istruzioni o nell'app stessa oppure sul sito Leg Education. Pronti via! Rivediamo il programma del robot che pattuglia la scrivania avanti e indietro. Nella scorsa lezione abbiamo dovuto copiare e incollare i blocchi perché non sapevamo come fare a ripetere delle azioni. Ma c'è un modo molto più comodo. Andiamo qui nella tavolozza controllo e prendiamo il ciclo per sempre. Adesso scollego questi blocchi. Metto il ciclo per sempre qui sotto. Vedete non c'ha niente a cui attaccare altri blocchi perché il ciclo si ripete per l'appunto per sempre. non c'è modo di uscirvi. E qui dentro metto una sola delle copie del codice. Questa sequenza verrà ripetuta all'infinito. All'infinito finché non si scarica la batteria o finché ci scocciamo e non fermiamo il programma. Vediamo come funziona. Se voglio girare sempre a destra potrei addirittura togliere anche questi blocchi così il robot andrebbe avanti facendo dietro front all'infinito. E ora rivediamo il programma del robot quadrato stavolta rimuovendo i blocchi duplicati e usando il blocco ripeti tot volte. Possiamo sostituire questa lunga sequenza che non è altro che la copia per 4 volte di questa sequenza avanti e un quarto di giro sul posto utilizzando il ciclo ripeti tot volte. Io ci metto dentro questa piccola sequenza butto via le copie e qui specifico quante volte voglio percorrere il quadrato. Questo blocco ripeti tot volte ti permette di configurare quante volte vuoi che si ripeta la sequenza contenuta al suo interno. In questo caso andavano un po'. Se voglio fare un quadrato una volta sola basterà ripetere 4 lati. Proviamolo. Che pacchia io adoro i cicli. Anzi ti dirò di più ogni volta che devo ripetere delle azioni in un programma per più di 2 volte io ci pianto un bel ciclo. Nella tavolozza del controllo di flusso dei blocchi gialli avrai notato che ci sono anche altri blocchi per ripetere delle azioni fino a che non succede qualcosa oppure per aspettare senza fare niente che succeda qualcosa. Ne parleremo nelle prossime lezioni. Piaciuta la lezione? Dai una bella legnata al tasto mi piace. Scommetto che vi siete già iscritti però io ve lo ridico. Iscrivetevi se il canale vi interessa e magari attivate anche le notifiche e non perdetevi la prossima lezione perché parleremo del sensore di distanza. Resta giovane, gioca a modine. Ciao!